Il delegato del Preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, a nome del Rettore, per l'autorità conferita dalle leggi dello Stato, in nome della Repubblica Italiana conferisco a coloro che sono stati nominati il titolo in Ingegneria Meccanica per i primi tre e in Ingegneria Energetica per gli altri colleghi. Mattinata di emozioni al Politecnico di Piacenza, dopo la discussione della tesi, sono stati proclamati nove nuovi dottori, tre in Ingegneria Meccanica e sei in Ingegneria Energetica, tra loro solo una donna, Nicoletta De Franceschi, che ha già trovato lavoro a Roma. Sicuramente un qualcosa di importante, proprio personalmente parlando, dato la scelta di carriera e voglio anche dire che all'interno del Politecnico di Milano esistono tantissime possibilità di carriera e di studi per donne, anzi siamo la maggior parte ormai, questo è un caso eccezionale, il fatto che io oggi sia da sola. Quindi ringrazio veramente l'università che da questo punto di vista e da tutti gli altri è sempre rimasto valido e coerente. Diversi gli studenti stranieri, Aikut Karakok arriva dalla Turchia e sogna di rimanere a lavorare in Italia. Would you like to stay in Italy? È questo uno dei miei obiettivi ed è il motivo per il quale mi trovo qui. Traorearsi al tempo del Covid, quindi una doppia difficoltà possiamo dire per questi ragazzi ma anche una doppia soddisfazione? Direi di sì, infatti io nel mio discorsetto ho voluto specificatamente sottolineare questo aspetto perché questi sono ragazzi che hanno svolto quasi tutto il loro percorso, tranne il primo semestre durante il periodo del Covid, dimostrando una disponibilità e anche una volontà che deve essere riconosciuta e dalla quale dobbiamo essere grati e siamo grati anche noi al Politecnico. Il Covid è stato difficile per tutti, purtroppo lo è ancora, speriamo di uscire ne presto. Il Politecnico come struttura, come corpo docente ha messo in campo una grandissima volontà di superare le difficoltà e lo ha fatto in modo molto efficiente, in modo molto pronto, ma non ci saremmo riusciti se non ci fosse stata un'analoga risposta da parte degli studenti.